Quindi in questo caso agretti, affumicati e scottati, battuto di rucola, scusate, polvere di limone bruciato, capperi fritti, questa è la mugnaia a base di limone, burro, brezzemolo e alloro. Questa è la cappassanta all'interno della famiglia, cappassanta leggermente sfruttata, largo, crema di mandorle dolci, ginocchietto marino, una maionese ai coralli delle mazzanfolle stesse, questo è un estratto a base di piselli e oragine. L'ombrina sopra una polvere di alghe, finocchietto, il pomodoro alla braccia a fianco, col capperi, origano e olio al basilico e vado a completare con la zuppa di pesce. E' una panna cotta alla mandorla con un gel e all'eucalipto e una marmellata di hibiscus.